In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timio, Bartimio, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire, «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte, «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse, «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli, «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse, «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose, «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse, «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Vangelo di un'incredibile profondità e bellezza spirituale Gesù sente, chiede, ascolta e poi esaudisce. La cosa curiosa e affascinante di questo Vangelo è cogliere che non è il cieco a vedere Gesù, ma è Gesù che fa di tutto per farsi vedere. Un gioco di sguardi con un cieco. Interessante, no? Sarebbe fin troppo facile per Gesù scappare da chi non può vederti e invece fa di tutto per farsi vedere anche da chi non vede e il cieco lo vede, anzi, meglio, lo sente. Come dire, non servono gli occhi per cogliere la presenza di Gesù. L'essenziale è invisibile agli occhi, direbbe il piccolo principe. È invece un sentirlo, è un cuore sintonizzato. Probabilmente quel cuore cercava una frequenza di salvezza. Gesù si mette su quella frequenza e lo intercetta. A quel punto il cieco parla, anzi, grida al Signore. Non con una preghiera da maestrino tipo i farisei o una preghiera senza senso, come quella di Giacomo e Giovanni nei giorni scorsi. No, il cieco grida, abbi pietà di me. L'unica preghiera che trova ascolto presso Dio è l'unica che ottiene l'esaudimento. L'unica preghiera che trova ascolto Dio